Partecipo anch'io, Costanza di Quattro, alla cordata che ha voluto proporre Sergio Manifredi, Racconti in tempo di peste, e leggerò un capitolo del mio libro, La mia casa di Montalbano, che in qualche modo segna un momento di svolta importante che ha poi portato quella casa a diventare la casa del commissario Montalbano. Era un lunedì, un lunedì anonimo e limpido di settembre, un lunedì senza data perché rimossa dalla memoria, un lunedì di un'accomodante banalità, arrivato dopo una domenica inutile e sparito come una cenerentola qualunque a mezzanotte. Ho imparato con il tempo che la meraviglia della vita sta nelle continue sorprese che questa ti regala. Inaspettati e talvolta incompresi, i grandi stravolgimenti giungono così, all'improvviso. Magari di lunedì, senza una ragione né un perché, oppure sotto una pioggia sottile in una domenica di dicembre o dentro un teatro vuoto in un pomeriggio pulumbeo e freddo. Probabilmente è tutta una macchinazione di un supremo ingegno, forse una partita a dadi, giocata ogni mattina sulla pelle di ognuno di noi. Di fatto, quel lunedì i dadi rotolarono a lungo sul tappeto verde del destino, fermandosi stranamente in una felice congiuntura numerica. Eravamo tornati al mare. Più che tornati al mare, eravamo usciti all'acqua. A tavola la tovaglia azzurra si intravedeva appena, ricoperta per intero da cibi vari. La pirofila di spaghetti al pomodoro fumava al centro, accanto ad una tazza a colazione piena di salsa, una bottiglia di vino fatta in casa e il pane morbido e colloso del signor Sciacchitano. Il nonno sorseggiava il vino di sua produzione. Nonostante fosse aceto disperato, lui lo decantava come un barolo dannato e ne esaltava le meraviglie, costringendo tutti i bambini compresi a gustarlo. Poi scrutava con aria minacciosa ogni commensale e aspettava il risponso condizionato e menzognero. Quando tutti i piatti furono colmi, ognuno si tuffò con avidità su quella piccola montagna di pasta al dente e salsa rosa come il fuoco dell'Etna. Qualcuno la cosparse di caciocavallo grattugiato, il nonno si limitò a spolverarla di pepe nero. Calò un silenzio solenne. Quello della prima forchettata, poi fu tutto un rumoreggiare sommesso di stovigli e bicchieri che si riempivano, pane spezzato per la scarpetta e tovaglioli sulle gambe. Una parola di qua, una richiesta di acqua di là, la conversazione languiva a favore del cibo. Svetlana sparecchiò i piatti del primo e mise quelli del secondo. Tolse la salsa e la pirofila con i pochi spaghetti e lasciò l'arrosto caldo al centro della tavola. Ognuno si servì liberamente, a parte il nonno che attese di essere servito alla nonna. Il nonno si complimentò con lei, io divorai la mia porzione, bichi la centellino, la mamma mangiava con appetito mentre papà stentava ad addentrare il pezzo di carne già infilzato. Poi di un tratto, rivolgendosi al nonno, disse Papà, ho incontrato Pasquale Spadola, sta facendo il location manager per Palomar. Chi fa Pasquale? disse il nonno, quasi inorridito da quelle parole astruse. Il location manager? disse papà, scandendo le sillabe come se il nonno avesse avuto solo una defiance uditiva e non linguistica. E mi ha raccontato che la Rai sta cercando delle location per un nuovo film, pare sia tratto da alcuni romanzi di Camilleri. Il nonno mangiava di gole e piacere, si asciugò la bocca, bebbe un po' di vino e disse felicissimo per Pasquale Spadola. Vedi, papà, riprese mio padre a fatica, Pasquale mi ha detto che cercano una casa per il protagonista, un commissario per l'esattezza. Ah, benone, fece il nonno distrattamente, poi si rivolse alla nonna seguendo il filo dei suoi pensieri. Viciu, mo vicino sa, la carne è un po' dissapita. Arà, papà mio, sbottò mio padre, ti sto parlando, cerca di ascoltarmi. Pasquale mi ha chiesto se magari possono prendere in considerazione questa. Il silenzio stavolta calò davvero e non fu violentato a posate, bicchieri o richieste varie, fu plumbeo e pesante. Durò un secondo, ma parve un secolo. Il nonno tirò un respiro profondo e ricominciò a mangiare come se nulla fosse. Papà guardò la mamma con aria rassegnata come a dire pazienza, ci ho provato. E poi incrociò lo sguardo della nonna che inarcò un sopracciglio come a dire pazienza, ci hai provato. Il pranzo proseguì sereno. Si parlò d'altro, dell'inizio imminente delle scuole, del tempo che si stava rompendo, del nostro trasferimento a Ragusa e di quanto ancora i nonni sarebbero rimasti a punta secca. Svetlana aveva sparecchiato e nessuno accennava ad alzarsi da tavola se prima non fosse arrivato il caffè, caldo per tutti, sempre freddo per il nonno. Tra zucchero e saccarino ognuno condì il proprio caffè e papà, ritrovato il coraggio, disse «Papà, non è brutta l'idea, poi si tratta di Raiuno, Camilleri, c'è pure il bira Sellerio, almeno parla con Pasquale». Il nonno posò con fare deciso la tazzina. Una goccia traboccò macchiando la tovaglia, fissò mio padre a lungo, poi parlò alla nonna per essere inteso con più incisività da tutti. «Di ciò, glielo dici tu garbatamente a Pietro che questa casa è mia e non intendo per alcuna ragione cederla a nessuno, né Raiuno, né Rai Due, né Mediaset, né Camilleri, né Berlusconi e manco a buttane sua nanna». «Ma» tentò di ribattere papà, «Ma niente», fece e decise il nonno. «Questa è casa mia, prima era di mio padre e prima ancora di mio nonno. Negli anni l'abbiamo trasformata nella casa che è, qui dentro c'è la mia vita, quella di tua madre, la nostra storia e il nostro futuro, rivolgendosi con fare il romantico a me e Vicky». Poi si alzò di scatto e augurando a tutti buon riposo aggiunse «E poi, peggiozzo mio, ma che ci può interessare alla gente di vedere un film girato in questa casa?» «E poi, peggiozzo mio, ma che ci può interessare alla gente di vedere un film girato in questa casa?» «Gro, peggiozzo mio, ma che ci può interessare alla gente di vedere un film girato in questa casa?» Grazie a tutti. Grazie a tutti.